buongiorno a tutti oggi siamo a lugano per presentarvi questo due e mezzo locali siamo al secondo piano di questa palazzina entrando nell'appartamento veniamo accolti da questo ampio disimpegno sul quale si affacciano tutte le stanze all'interno di questo disimpegno abbiamo questo armadio a muro già installato veramente comodo frontalmente noi la stanza e l'area soggiorno che vedremo in seguito procediamo con la visita sulla parte destra troviamo subito la cucina una cucina appena arrivata vedete che sulla parte destra abbiamo una parete attrezzata mentre sulla parte sinistra troviamo il forno il piano cottura in vetro ceramica lavabo lavastoviglie frigorifero e congelatore alla sinistra della cucina un primo bagno di servizio composto di specchiera lavabo e vicino manteniamo sempre la sinistra ed ecco che possiamo accedere al secondo bagno il bagno più grande composto di una grande e comoda vasca lavabo specchiera e troviamo sempre gli attacchi per la lavatrice come detto prima frontalmente all'ingresso troviamo la camera sul lato sinistro una camera ben illuminata grazie a questa grande finestra concludiamo la nostra visita all'interno dell'area del soggiorno vedete un'area molto spaziosa ben illuminata grazie a queste finestre ea questa porta finestra che ci fa accedere ad un balcone un balcone che ci regala una vista incredibile sul lago e se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto